Voltiamo ora a pagina, la Miss Italia in carica, Alice Raquel Arlanc, protagonista marzocca di una serata di moda e spettacolo. Con lei le dieci Miss Marchigiane che si sono conquistate una fascia negli ultimi due anni. Applauso, applauso, applausone per Miss Italia 2017, Alice Raquel Arlanc. Un gran galà in onore della bellezza, con ospiti le dieci Marchigiane che negli ultimi due anni si sono conquistate una fascia da Miss. E con madrina d'eccezione l'attuale Miss Italia in carica, la trentina Alice Raquel Arlanc. Ad organizzarlo proprio chi di bellezza se ne intende, ovvero Nicoletta Manfredi, una delle coiffer ufficiali del concorso, pronta anche quest'anno con il suo staff a volare dalle marche a Jesolo per curare il look delle più belle d'Italia. Ed è proprio con loro, le concorrenti marchigiane di oggi di Ghielli del concorso, che la parrucchiera delle Miss, con un'ultradecennale esperienza alle spalle, ha voluto festeggiare il suo nuovo salone fresco di trasloco a Marina di Montemarciano, l'angolo della vanità parrucchiera ed estetica. Per questo, nella splendida cornice delle Todi Marzocca di Senigallia, nel corso di una serata di moda e spettacolo condotta da Marco Zingaretti, presentatore ufficiale delle selezioni regionali del concorso, con la direzione artistica di Giuseppe Filloramo e la regia video di Andrea Ferreri. Ha chiamato a raccolta quelle che negli ultimi due anni hanno rappresentato le marca la Kermess, tra loro, reduci dall'ultima edizione, anche l'attuale Miss Marche, la matelicesi Elenia Bravetti, e la civita novese Daniela Mazzaferro, con la sua fascia di Miss Curvy. Oltre a Rosa Setola e Olga Strogovec, le uniche due marchigiane a concorrere per la prima fascia dell'anno, quella di Miss 365. A loro fianco le altre bellissime marchigiane e l'attuale Miss Italia in carica, che hanno regalato momenti di moda e spettacolo con due defilé, entrambi targati boutique la bussola, uno con abiti da cerimonia e l'altro dedicato alla moda casual, con abiti fashion impreziositi dagli accessori firmati a extraottica. A curare invece il loro look, dalle acconciature al trucco, Nicoletta e il suo staff di quattro collaboratrici, sotto le cui mani è passata anche l'attuale Miss Italia in carica. Un piccolo assaggio del clima da backstage per Nicoletta e il suo team, prima di tornare a Jesolo con la prossima edizione di Miss Italia.